La chiesa è crollato il campanile provocando la morte di quattro persone che stavano, abitavano in prossimità della chiesa, purtroppo è successa questa disgrazia, la causa è una concausa il campanile, ma la forte scossa del terremoto che c'è stata, purtroppo ci dispiace. Visto in televisione che la procura della Repubblica ha aperto un fascicolo per disastro, mi auguro venga accertata la verità, il massimo della trasparenza, noi non abbiamo nulla da temere e da nascondere, in merito, perché comunque non è… Penso che almeno i lavori fatti con i rafforzamenti fatti dai finanziamenti del subcommissario al sisma, io mi auguro che siano stati rispettati i fatti come la norma detta, poi se ci sono state adempienze la magistratura accerterà questo.